Abbiamo creato un soggetto che praticamente l'abbiamo fatto per i bambini piccoli e praticamente abbiamo parlato di qualche animale In Cable stavano in una camera e hanno cominciato a studiare storia In poche parole dopo ci sono tutti complimenti che hanno studiato il libro di storia C'era il libro di storia o l'avete dovuto disegnare voi? L'avete disegnato voi quindi l'avete inserito? Sì Molto bene